Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Consiglio Comunale di Cava de Tirreni lo scorso agosto è al vaglio della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Nei giorni scorsi i giudici contabili avrebbero chiesto al Palazzo di Città Metelliano una serie di documenti e alcuni chiarimenti in merito ad alcune delibere di natura finanziaria approvate nei mesi scorsi. Se da un lato l'amministrazione comunale sembrano scomporsi più di tanto, in quanto si tratterebbe di una richiesta di documenti in una fase istruttoria della valutazione del piano da parte della Corte dei Conti, a Palazzo di Città tuttavia, anche in alcuni ambienti vicini alla maggioranza, la nota della sezione regionale di controllo della Corte sembra aver generato non poca preoccupazione per i possibili correttivi che dovrebbero essere apportati al piano di rientro. I consiglieri comunali di Siamo Cavesi, Marcello Murolo, Raffaele Giordano e Vincenzo Passa, già parlano di scacco della magistratura contabile all'amministrazione Servalli, in quanto i rilevi rimossi dai giudici contabili evidenzierebbero in pratica la bocciatura del piano di rientro, così come approvato dall'amministrazione. Una decisione grave a cui ci auguriamo il sindaco Servalli vorrà porre rimedio in tempi rapidi, spiegano in una nota i consiglieri di Siamo Cavesi, che ora chiedono all'amministrazione di mettere a disposizione dei componenti del parlamentino cittadino tutta la documentazione. Con il piano di riequilibrio finanziario pluriannale, approvato nell'agosto dello scorso anno, si punta a ripianare un debito di 59.242.217 euro. Lo strumento a cui ha deciso di aderire l'amministrazione per cercare di ripianare la massa debitoria accumulata nel corso degli anni avrà durata ventennale. Gli aspetti salienti del programma di riequilibrio, con particolare riferimento alla esposizione e quantificazione degli effetti delle misure più significative programmate dall'ente per riequilibrio economico-finanziario e che ora sono al baglio della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, passano attraverso 11 punti che vanno dalla riorganizzazione strutturale dell'ente all'incremento delle attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, passando dalla riduzione delle spese per il personale, arrivando alla razionalizzazione dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale. Intanto, dopo il rinvio per la concomitanza del lutto nazionale proclamato in occasione delle esegue di Berlusconi, il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi giovedì alle ore 16.30.